buonasera a tutti aspettiamo un attimo che vi colleghiate vedo che c'è già arrivando qualcuno gli occhiali così vi vedo mi sentite mi vedete bene me lo dite così ciao Francesca ciao ciao Enrico ciao tesoro ciao Ada ciao Dorina ciao Cinzia spero stiate bene ciao Gianna vedo che state arrivando in diversi ciao Ada buonasera Daniela buonasera Marina grazie Enrico grazie un abbraccio grande anche a te e grazie per questa diretta come sempre ciao ciao Maria ciao Monica perdiamo qualche minuto per i saluti non li perdiamo ma che sono sempre importanti è sempre importante salutarsi ciao Simona ciao Giuseppina come stai ciao Teresa ciao Adele ciao Adele ciao Sara ciao Roberta ciao Grazia ciao Mayla allora ciao Sogna ciao Daniela ciao Sara siete state arrivando in tanti mi fa piacere vuol dire che è apprezzata la mia compagnia mi fa molto piacere vi ringrazio ciao Peppe ciao mi fa molto piacere che siate in tanti allora allora grazie Cinzia ciao Antonella ciao Paolina ciao ciao Rita ciao Valeria ciao Sandra ciao Susanna ciao ciao Sì grazie a Danne e 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 a Danne per questa diretta di Ene sei sempre carina e ci vediamo venerdì ci ho spostato di un giorno perché giovedì era un giorno strapieno ma non abbiamo un po' più di tempo ciao Mariella ciao gloria allora io stasera volevo parlare di una cosa ciao nada ciao che per me è molto importante ed è una domanda che non mi viene mai fatta direttamente però alla fine è sempre comunque collegata a questo argomento no questo mondo così speciale così bello così meraviglioso l'importanza dell'anima allora ciao gabriella ciao tesoro ciao l'importanza che ha la nostra anima nel nostro percorso tu sei gentile a dele sempre premurosa sempre mi porta qualcosa sempre di una gentilezza di una generosità incredibile a dele ciao camilla ciao tesoro come stai bella ciao roby ciao ciao daniela buonasera grazie antonella grazie allora vi stavo dicendo i miei gatti che stanno facendo la lotta non fateci caso ciao antonella ciao com'è il mare c'è un po brutto tempo anche lì da voi è un abbraccio grande anto allora stavo dicendo proprio per l'importanza che ha la nostra anima non è mai una domanda che mi viene fatta direttamente ma è una domanda che è circondata da tante cose ciao gina ciao ciao patricia allora se noi pensassimo a come all'importanza che ha la nostra anima e se riuscissimo a lavorarci un po no sappiamo benissimo che veniamo qui che abbiamo anima corpo sono due cose unite l'anima viene con noi quando arriviamo da questa parte è la parte più importante è il corpo che vive dall'altra parte no l'anima è il corpo che ci rimane che continua a vivere dall'altra parte così è la cosa più giusta da dire e se noi riuscissimo a tenere collegati anima corpo mente e cuore avere questo equilibrio che lo raggiungiamo in un modo molto semplice non è che sia così difficile ciao roberta buonasera è questione di atteggiamento interiore bisogna imparare a viverlo questo a cambiarlo a crearlo questo atteggiamento interiore che abbiamo dentro perché a volte noi sorridiamo ridiamo ridiamo facciamo finta di niente ma interiormente stiamo male abbiamo delle sofferenze abbiamo dei dolori abbiamo dei distacchi ciao enza ciao un bacione e spero tu stia bene e se noi ciao laura ciao ciao mariella no non c'è il mio cane mariella vicino ho i miei gatti il cane fuori stato in casa tutt'oggi ma è fuori il rumore che si sente è mordicchio che ha una rinite alla narice sinistra perciò fa questo rumore sembra che russi ma non ho il cane il cane fuori e vi stavo dicendo che è proprio il nostro atteggiamento che unisce le due cose perché l'anima è quella che vede oltre buonasera arianna è quella che vede oltre la mente la parola il cuore il nostro corpo è quello che vive direttamente su questa terra ma è molto importante tenere collegate all'anima perché il fatto di poter sentire di poter vedere l'anima quando va dall'altra parte e continua quando rinasce praticamente quando continua a vivere io non direi neanche una rinascita quando continua a vivere dall'altra parte perché non muore mai l'anima non muore mai ha memoria a ricordo a ricordo di tutte le vite che abbiamo vissuto ha memoria di ogni cosa non ha più la figura che abbiamo avuto in vita e per quello che è molto importante a volte quando si hanno dei messaggi dall'altra parte quando si hanno buonasera Vanessa quando si hanno dei messaggi dei nostri cari buonasera Minni dei nostri cari o anche da chi non conosciamo perché chi viene da me per un contatto ma chi viene da me per sentire qualcuno ciao Leonora sicuramente ha piacere di sentire uno dei suoi cari anche perché lo riconosce dalla descrizione da quello che accade lo riconosce però io che vedo tantissime persone e credetevi soprattutto persone che non conosco perciò non so neanche chi sono ma è comunque un collegamento sia con mio padre, con mia madre con le persone che conosco, con i miei amici con le persone che amo e che ho amato in vita perciò lì è il collegamento che si ha con l'anima dall'altra parte non so se riesco a spiegarmi bene perché non è una cosa molto facile da spiegare e poi io non sono una persona acculturata perciò la spiego in parole semplici la spiego come a me l'hanno spiegata e come mi hanno insegnato e fatto vedere quando io vado dall'altra parte o quando qualcuno va dall'altra parte riconosce tutte le persone perché io le chiamo persone a livello solo di anima, non di corpo perché il corpo di là non esiste più proprio dalla memoria da quello che si è vissuti insieme e ci si ricorda anche delle vite precedenti perciò qualsiasi persona io possa sentire mi darà sempre comunque un abbraccio un gesto d'amore qualsiasi cosa ci stanno abituando a questo ci stanno veramente abituando a questo almeno io mi sono già abituata a questo e sicuramente l'approccio che si ha è per comunque avere delle prove buonasera Anna Rita per capire che comunque sono sempre in collegamento con noi che ci sono, che sono vivi, che esistono però è tanto bello anche a volte ricevere un messaggio da qualcuno che non ci si ricorda o che non abbiamo conosciuto però che comunque ha seguito il nostro cammino facendoci anche da guida per me è una cosa meravigliosa questa buonasera Minuccia ed è importantissima l'anima perché quando si è bambino quando si dice che i bambini ridono con gli angeli o che vedono è vero, i bambini vedono ma perché? perché siamo puri quando noi arriviamo qua è più forte l'anima perché non è ancora stato attaccato dal materiale, dal corpo e per quello che poi nel tempo si perde la visione di quello che si può sentire e che si può vedere dall'altra parte perché si diventa più materiale perciò l'anima perde un po' l'equilibrio si offusca un po' di più e sopravvale il corpo sopravvale il corpo sopravvale il pensiero sopravvale la mente di conseguenza l'anima è come se si rimpicciolisse non a livello materiale però a livello di visione a livello di sentire a livello di capire qual è il vero collegamento la cosa che a noi interessa di più perciò ci attacchiamo di più al materiale perciò alle sofferenze fisiche alle sofferenze di cuore all'arrivismo al fatto di volere percorrere una strada per avere successo per avere qualcosa in più ma questo è giusto ed è normale perché noi sulla terra ci dobbiamo vivere vivere scusate stasera strapparlo ci dobbiamo vivere è un percorso che dobbiamo fare però bisognerebbe sempre tenere comunque collegata l'anima al corpo e alla nostra mente proprio per avere questo equilibrio e non esagerare anche nelle situazioni terrene perché il troppo storpia sempre cioè poi arriviamo ad un punto che corriamo dietro solo alle cose materiali e quello che veramente conta nella vita non lo lasciamo indietro e quello che conta per me nella vita è comunque buonasera Raffaella comunque la bontà del cuore quando io faccio una buona azione io sto bene io mi apro divento più grande dentro di me ma non per vanità perché comunque l'invidia la vanità il rancore la rabbia sono tutti i sentimenti che portano a chiudersi che portano ciao Alice ciao tesoro ciao Giuse ciao amore ciao che portano il tuo pancione come sta il tuo pancione sì Giuseppina ci vediamo a brindisi il 7 ciao Isabel ciao Angela perciò si rimpiccerisce proprio a livello di visione allora Emiliano diceva mia mamma ha subito il maltrattamento da parte di mio fratello perché era vittima di dipendenza quando ho potuto l'ho denunciato poi è deceduta a breve ci sarà il processo e vorrei tanto sapere se è la cosa giusta per lui o ritirare la denuncia guarda Emiliana io non te lo posso dire queste sono scelte tue però ti assicuro che non c'è nessuna colpa né da parte di tua madre né da parte di tuo fratello con questo non vuol dire che tuo fratello si sia comportato bene assolutamente ha fatto comunque soffrire la mamma la mamma ha fatto la cosa giusta per lei e per quello che poteva sembrare ma questi qui sono sono fatti terreni quello che volevo arrivare appunto a spiegare mi hai fatto una domanda molto giusta è proprio questo che quando facciamo delle scelte sulla terra non hanno non hanno colpe non dobbiamo farci influenzare cerchiamo sempre di fare la cosa giusta per noi anche perché guardate che il percorso di vita è scritto cioè l'abbiamo scritto noi di conseguenza non è che possiamo sì possiamo avere delle scelte il famoso libero arbitrio esiste però abbiamo queste scelte però cerchiamo sempre di fare la cosa giusta la cosa giusta per noi stessi senza dover ferire gli altri senza dover senza dover colpevolizzare qualcuno o senza doverci sentire in colpa guarda ti rispondo con un episodio che è capitato a me io quando mio figlio era un ragazzino mio figlio è sempre stato un bravissimo ragazzo però sappiamo benissimo che i ragazzi arrivano ad una certa età nell'adolescenza che le cazzate si fanno cioè non c'è niente da fare e le compagnie sbagliate e no Emiliana io non ti posso aiutare perché io lo dico sempre io non potrò mai decidere per voi posso darti un po' di serenità su quello che sto dicendo il fatto di dire di non sentirti in colpa non cercare cerca di fare quello che il cuore ti dice questo posso consigliarti ma non grazie Susanna ma non io non posso decidere per te non posso aiutarti e loro anche tua mamma che dall'altra parte non ti potrà mai dire quello che devi fare sono scelte nostre capito cerca di fare la cosa giusta anche per tuo fratello perché non vuol dire sai che se tua mamma era denunciato gli abbia fatto del male probabilmente lo ha salvato e ti stavo raccontando questo episodio da ragazzino io un giorno una sera io lavoravo al bar e Andrea aveva i suoi amici in casa si radunavano a casa mia perché io non c'ero perciò cose leggere mio figlio non ha mai usato cose pesanti un bravissimo scusatemi mi è suonato il telefono un bravissimo ragazzo però le sciocchezze si fanno e io ho chiamato i carabinieri d'accordo con i carabinieri e dirgli vai in casa erano miei amici andate in casa andate a vedere e cercate di fargli un po' paura così smettono di alcuni elementi di riunirsi a casa mia e di coinvolgere i miei figli in alcune situazioni perciò credimi una mamma fa anche delle cose a volte sembrano forti ma per il bene dei propri figli eh Emiliano devi fare quello che ti senti capito ma continua a comportarsi male cioè non ti devi sentire in colpa o non devi non pensare che se fai una cosa di questo genere puoi fargli del male potresti lo fai sicuramente tu lo fai per fargli del bene per continuare sulla strada e sulla scelta anche di tua mamma perciò sono scelte tue falle falle senza stare male cioè nel senso che si sta comunque male perché sono fratelli sono parenti per l'amor di Dio però buonasera Gabriele però devi devi fare quello che ti senti quello che secondo te per te è giusto hai capito le cose a volte si fanno proprio perché gli si vuole bene alle persone non perché gli si vuole male allora Menuccia dice le anime hanno memoria nel tempo di quello che hanno vissuto dei legami oppure rimuovono col tempo no non rimuovono Menuccia hanno proprio la nostra anima quando andiamo dall'altra parte in questa vita Biniè vai giù in questa vita non ricordiamo giustamente ma quando andiamo di là abbiamo memoria anche delle vite precedenti questo è quello che mi hanno detto perciò ricordiamo tutto perciò una persona che abbiamo vissuto semmai in una vita nell'ottocento noi la riconosciamo quando siamo dall'altra parte se abbiamo vissuto un percorso insieme un trascorso insieme la riconosciamo per quello che a volte non vi capita mai che vado avanti con le domande e con i messaggi ciao Anna Maria ciao Jessica ciao tesoro non vi capita mai di conoscere qualcuno e di pensare o che pensiate che una vita che la conoscete vi trovate bene ciao Adriana ciao amore che vi troviate bene insieme che buonasera a Simona che vi sembra di avergli parlato sempre che le cose che dice vi ricordano qualcosa indietro come se rivivere non dico un déjà vu ma rivivere un qualcosa ciao Fabio rivivere qualcosa che vi sembra vostro probabilmente abbiamo vissuto con queste persone probabilmente abbiamo un altro percorso da fare e questo spiega anche il fatto perché non tutti abbiamo gli stessi anni da vivere nella vita terrena perché ognuno buonasera Francesca perché ognuno di noi ha comunque un tot di tempo per evolversi e in ogni vita penso che sia diverso per quello che ho capito e per quello che mi hanno spiegato parlo sempre di quello che mi dicono dall'altra parte sì Adriana ci vediamo a Brindisi sempre nel nostro operitivo mio padre Roberta dice mio padre che nell'oltre da 14 anni lui non era credente a volte penso che non riesco a sognarla proprio per questo motivo assolutamente no Roberta non c'entra niente quello che abbiamo fatto sulla terra che noi crediamo che noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato non c'entra niente quando siamo di là è un tutt'altra visione il fatto che tu non lo sogni è perché probabilmente sei chiusa nel dolore o sei c'è qualcosa i tuoi canali non sono completamente aperti è per quello che a volte non si sognano o non ci si ricorda di averli sognati perché a volte li sogniamo ma noi non ci ricordiamo Monica dice buonasera Susi le persone cattive che soffrono per la loro stessa cattiveria solitudine morendo capiscono cosa hanno fatto capiscono quando sono dall'altra parte che hanno avuto comunque un percorso un percorso che non gli ha dato la 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 conoscenza che avrebbero dovuto fare si capisce quando si è dall'altra parte ma credetemi che una persona cattiva non sta bene perché se io quando guardate mi è capitato proprio l'altro giorno ho reagito male arrabbiata proprio con una persona e sono stata male perché non è il mio il mio essere il mio modo di fare è un periodo che vedo talmente tante cose brutte in giro talmente poco rispetto per gli animali per le persone una cattiveria che mi dà molto fastidio e proprio a livello di energia penso perché io non ho un'energia così ce l'ho molto e mi scontro molto a volte con queste energie io sono stata male io ho chiesto scusa anche se avevo ragione ho chiesto scusa non per quello che ho detto ma semplicemente per il modo in cui l'ho detto perciò una persona cattiva una persona che è arrabbiata non sta bene siamo meglio noi siamo meglio noi che abbiamo comunque un pensiero gentile per gli altri che viviamo la nostra vita senza poter giudicare quello che fanno gli altri una persona cattiva non è felice e credetemi io che vedo tante persone che a volte ciao Laura ciao ciao Maria dai scusatemi il gatto mi ha ribaltato il telefono casa mia è così mi dovete scusare mi dovete prendere per come sono perché a casa mia succede di tutto loro e i miei spiritelli là in alto me ne combinano di ogni tutte le mie dirette sono sempre così adesso è stata la gatta buonasera Laura perciò io che vedo tante persone e chi viene da me perché ha un dolore da affrontare di conseguenza si aprono anche se non riescono ad aprirsi con qualcun altro con me per forza si aprono per quello che faccio e il giudicare qualcuno dire quello lì è cattivo quello lì se ne frega quello lì sta bene è sempre sbagliato perché noi non possiamo leggere quello che hanno dentro e io che vedo tante persone apparentemente che stanno bene che sono ricche che stanno tutto quello che volete di meglio in realtà non è così perché quando poi gli leggi dentro al cuore ti si spezza perché dice vedi dice a volte poter vedere quello che è l'apparenza in realtà dentro hanno tutt'altro perciò cerchiamo di leggere e questo quello che volevo dire prima l'anima legge negli occhi nel cuore di un'altra persona e nell'anima Maria dice ti ho scritto recentemente per parlarti di mio padre col mio reale quando sono arrivata qui sapevo di venire da un altro posto dove sapevo tutto e me li ricordavo come sogni sfocati e non vedevo l'ora di tornare lì per questo ho fantasticato per 40 anni sul mio suicidio io sai che non ho capito scusami Maria ma io non ho capito perdonami spiegamelo meglio Nadia dice ma nell'aldilà potremmo incontrare anche le anime che ci hanno fatto male in vita certo assolutamente sì ma non le riconosciamo per il male che ci hanno fatto in vita Nadia le riconosciamo per un percorso dell'anima e so che sembra strano sembra difficile ma non c'è rancore non c'è rabbia dall'altra parte noi ci incontriamo ci riconosciamo dal percorso di vita ma non abbiamo gli stessi sentimenti che abbiamo sulla terra per fortuna allora Anna Raviglione dice buonasera Susi può accadere che la nostra mente gemella andata nell'oltre possa diventare il nostro spirito guida grazie di cuore Anna io non so cos'è la nostra mente gemella non ne ho mai sentito parlare no secondo me le nostre guide sono comunque dei cari che sono dall'altra parte grazie Beppe grazie Dorina Roberta sì sì ne ho tanto mi fanno disperare ma ne ho tanto grazie Jessica sì guarda spero di venire anche la donata mi dice sempre le andiamo a trovare sono strapiena di impegni di appuntamenti grazie Maria Alessandro Anna Maria Calloni dice se un nostro caro si è reincarnato come facciamo a ritrovarlo quando sarà il nostro momento allora guarda a me hanno risposto su questa cosa perché la cosa che mi sono chiesta come mai mio padre lo vedo ancora dopo tantissimi anni la reincarnazione avviene dopo tantissimi 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 anni e mi hanno detto che in molti non credo in tutti ma la maggior parte delle persone della famiglia si rinascono insieme e hanno un percorso di vita da rivivere insieme è per quello che noi i nostri cari li ritroviamo dall'altra parte e possiamo fare un percorso nuovo in questa vita terreno a decidere di tornare insieme poi quello che decidiamo dall'altra parte io non ve lo so dire perché io non è che so tutto so quello che mi hanno spiegato e quello che mi hanno fatto capire Simona dice vorrei chiederti una cosa come posso superare la paura della comunicazione con l'entità sento voce quando capita chiedo silenzio quando le vedono gli consento di interagire con me potresti darmi qualche consiglio non ne devi avere paura Simona devi stare tranquilla cioè le voci che si sentono se sei pronta non fanno paura perché capisci cosa sono io non ho mai avuto paura di quello che sentivo dall'altra parte ti parlo della mia esperienza perciò il fatto che tu ne abbia paura forse o non sei pronta o devi comunque superare alcune cose ci vuole pazienza ci vuole calma io non ne ho mai avuto paura di quello che sentivo vi dico la verità grazie a te Simona Sonia dice io credevo nella giustizia divina ma non quella terrena quindi sbaglio a pensarla così allora Dio non giudica Dio non punisce Dio non ti metterà mai un dito davanti al naso sgridandoti c'è una giustizia sicuramente ma penso che sia una giustizia a livello di nostro di quello che impariamo in questa vita proprio dal fatto se facciamo male o se facciamo bene poi di là capiamo tutto perciò si fa sempre qualcosa per rimediare a quello che si è fatto ritornando sicuramente in un'altra vita questo è quello che a me hanno detto e credo che sia così perché tante cose che mi sono arrivate davanti e capire che è questa funziona in questo modo intendevo l'anima gemella e non lo so non credo però cioè non te lo so dire perché io non te lo so dire l'anima gemella non so neanche se ce l'abbiamo sinceramente non lo so non lo so Anna sai non te lo so spiegare perché non lo so però le nostre guide sono comunque i nostri cari non credo non c'entra niente il fatto che ci facciano la guida se l'anima gemella la mente gemella non conta proprio niente penso grazie a te Nadia buonasera Elena allora i tornelli i nostri cari sono sempre con noi ci aiutano sempre Laura dice Susi ho dotato un gattino da febbraio anche lui mi guarda dietro le spalle mi gira ma non c'è nessuno vede anche lui sicuramente sì gli animali vedono assolutamente vedono molto più di noi allora aspettate che vado avanti con le domande Maria dice ti ho scritto come Sonia Giagnoni parlandoti del mio padre violento come lo avessi completamente perdonato io quando sono arrivata qui ero piccolissima e arrabbiata con i miei genitori perché non avevano il diritto di farmi venire qui dopo ho vissuto una vita in seguire il suicidio per cercare guarda è un pensiero molto sbagliato Maria intanto i genitori te li scegli tu prima cosa quando noi arriviamo qua è perché abbiamo già puntato il dito sui genitori che vogliamo il fatto di fare una vita sofferta o di brutta di violenza così è perché ce la siamo scelti probabilmente dobbiamo imparare qualcosa proprio da questo con questo non vuol dire che è giusta la sofferenza che proviamo però funziona così e poi guarda ti dico anche un'altra cosa e lo dico per rispetto ai genitori che hanno dei figli suicidati il suicidio è un'esperienza i ragazzi che mi hanno mandato i messaggi da di là dall'altro mondo non danno colpa se uno deve andarsene suicidato se ne va non ci sono dei tentati suicidi se uno va deve andare dall'altra parte in questo modo ci va perché comunque l'ha deciso anche prima loro parlano di questa esperienza che purtroppo molti di noi farlo dico purtroppo noi molti di noi a livello umano perché noi soffriamo tantissimo quando qualcuno dei nostri cari si suicida perché c'è il senso di colpa anche però loro parlano di una scelta di morte che in tutti i modi se non avessero scelto quel modo lì se ne sarebbero andati comunque perché il giorno non si può cambiare il tempo predestinato che dobbiamo vivere non lo possiamo cambiare abbiamo quel tot di tempo che abbiamo scelto e andiamo avanti in quel modo Rossella dice buonasera Susi se le anime dei trapassati hanno ancora memoria e sentimenti legati all'ultima incarnazione possono pensare che mio marito soffra per la nostra separazione eravamo molto legati allora buonasera Susi lo rileggo perché non ho capito bene se le anime dei trapassati hanno ancora memoria e sentimenti legati all'ultima incarnazione posso pensare che mio marito soffra per la nostra separazione no l'ho appena spiegato Rossella non c'è lo stesso modo di vedere le cose quando siamo dall'altra parte di quando siamo in vita sono comunque sempre esperienze che abbiamo deciso probabilmente tu e tuo marito anche se eravate molto legati avete deciso insieme questo percorso di breve o lunga durata mini dice i bimbi che non sono riusciti a nascere hanno ricordo della loro mamma i bimbi che non sono riusciti a nascere mini io ne vedo tanti a volte chi ha avuto un aborto che sia spontaneo o volontario che ha perso un bambino appena nato loro di là si fanno vedere hanno ricordo di tutto del poco tempo percorso e anche se non sono praticamente nati se non sono formati sono comunque un'anima perciò l'anima continua a vivere e cresce grazie a te Sonia Beppe dice toglietevi dalla testa l'idea del Dio tirano e punitivo della chiesa Dio e amore bravo Beppe ciao Maria Rosa ciao ci vediamo presto sì così ce la ridiamo un po' voglio sentire un po' delle tue barzellette che mi fanno tanto ridere buonasera Rita ciao Cristiana ciao tesoro Teresa dice se il mio gatto saltava sui mobili sì perché gli animali ciao Rosanna sì perché gli animali vedono hanno l'anima più pura della nostra di conseguenza per forza vedono nel discorso che facevo prima l'importanza che ha l'anima dobbiamo riuscire a tenere in equilibrio l'anima e il corpo per poter stare meglio per poter capire per poter stare meglio Francesca dice ma gli animali dopo la morte restano in casa con noi devono per forza andare in un'altra dimensione Francesca gli animali hanno un'anima molto più pura della nostra la loro anima va di là ma si comporta come una persona cioè possono starci vicino possono venirci a trovare ma vivono comunque dall'altra parte perché quando gli animali muoiono il corpo rimane di qua e l'anima va dall'altra parte ed è molto più pura della nostra non potrebbero vivere continuamente con noi per forza devono abitare là e poi viaggiano verso di noi Elena dice anche chi uccide la propria madre e il proprio figlio è già programmato beh sono scelte condivise però non è non è molto bello parlare di questo anche perché sai ci sono gli esaltati in giro di conseguenza potrebbero essere frasi percepite nel modo sbagliato io sto molto attenta a parlare di questo però credetemi la maggior parte delle cose scelte sono delle cose che ci succedono e che ci accadono nella vita sono scelte io ripeto sto molto attenta perché poi ci sono già ce ne sono tanti c'è qualche esaltato che può dire beh sai l'ho scelto e allora lo faccio non funziona così perché la libera scelta di fare alcune azioni ce l'abbiamo in vita perciò c'è sicuramente il percorso e alcuni punti sono stati prescritti però la scelta ce l'abbiamo possiamo capire anche un po' di più no? ciao grazie felice dice buonasera buonasera felice sta ferma birba ma è stufato stasera birba ci lo so quando le vedo non ho paura mi viene beh non so cosa dire ti dico che loro non fanno paura quando sei pronta ad accoglierli non ti fanno paura assolutamente Laura dice approfitto Susi mando un bacio a mio figlio a miei cari a miei fratelli a mia mamma e voglio bene anche io ne mando uno a te a tutti i tuoi cari ciao Angela ciao un abbraccione grande ciao Angela allora Mika dice vorrei di vedere mia mamma e può arrivarti in sogno Simone dice c'è ancora l'amore coniugale dall'altro lato così intendi? così intendi per amore coniugale dall'altro lato? se intendi sesso no di là non facciamo sesso se intendi questo non c'è non c'è il corpo di conseguenza c'è un amore a livello di anima ci si riconosce per quello che abbiamo fatto però se io quando andrò di là mio papà lo riconoscerò dall'amore che abbiamo vissuto anche mia mamma ma non lo riconoscerò come mia mamma e mio papà so che abbiamo vissuto un percorso di mamma e papà ma l'anima non ha il ruolo è senza ruolo buonasera Diana Sara dice scusa scusa per questa domanda tu senti qualcuno vicino a te che si chiama Sara io non faccio contatti in diretta è una cosa proprio che sono contrarissima grazie dice è giusto chi ha ragione allora andiamo avanti entrambi i miei genitori Alessandro dice entrambi i miei genitori sono andati via dicembre spero che stanno bene mi mancano tanto Alessandro stanno benissimo dall'altra parte e se fai attenzione vedrai che ti lasceranno tanti segni e ti daranno tante prove che ci sono bisogna fare attenzione ascoltare parlare con loro e ringraziarli sempre per quello che ci hanno dato per quello che ci hanno fatto parlare la voce la nostra voce ha delle vibrazioni molto importanti noi siamo fatti di energia la nostra voce ha delle vibrazioni molto importanti perché a volte ci sono delle voci che ci infastidiscono delle voci che invece ci danno tranquillità delle voci che ci fanno ridere pensate siamo fatti di energia queste vibrazioni sono molto importanti anche per loro hai capito? Beppe dice Scusi è vero che mettere una foto sotto al cuscino aiuta a sognare il proprio caro no non è vero è il cuore che aiuta a sognare i propri cari Beppe non sono questi gesti materiali è sempre una questione di cuore di apertura Rita dice da parte nostra qual è il modo migliore per avere un messaggio nel nostro caro nell'oltre non lo so Rita se tu li senti sai come funziona è una cosa spontanea naturale per avere un messaggio quando non si è collegati come me o come qualcun altro si ascolta si parla l'ho appena detta questa cosa parlare con loro perché è la nostra voce delle forti vibrazioni ringraziarli cercare di stare il più sereno possibile non avere rabbia non avere dei sentimenti che ci sporcano perché chiudono i nostri canali i canali che abbiamo attraverso l'anima perciò mantenere l'anima un po' più leggera senza sentimenti terreni che purtroppo abbiamo ed è anche normale che li abbiamo però è così però ecco mantenendola pulita in questo modo abbiamo più possibilità di accorgerci quando si fanno sentire e si fanno vedere Alessi dice ciao Susi cosa ne pensi della cremazione è una pratica che comporta qualche mancanza nelle vite successive no assolutamente no la cremazione è una decisione che abbiamo noi e che decidiamo noi di fare per quello che ci fa star bene è una cosa materiale bruciamo il corpo è una cosa che non appartiene più all'anima è come se buttassimo via un vestito un vestito che ci è piaciuto tanto con cui abbiamo vissuto tanto ma è semplicemente solo un vestito Gloria dice Susi la mia gattola quando mio marito non c'è più mi segue continuamente sempre attaccatissima a me probabilmente tuo marito la spinge a starti vicino perché fanno anche così usano molto gli animali Beppe dice di là esiste una fonte d'amore che andrà ben oltre a quell'amore che abbiamo sperimentato in terra saremmo gli andati di amore giustissimi Sara dice non era per avere un messaggio sì ma nonna lo scrivi ingrosso urlando io non mi sono mica arrabbiata non era per avere un messaggio solo ho sentito scusami no io te l'ho detto non do messaggi e per me è anche una cosa un po' inverosimile dire senti qualcuno vicino a te che si chiama Davide sai quanti ne sento io ma non so dire chi sono hai capito non c'è bisogno che ti arrabbi però eh si sta parlando e si sta spiegando io ho capito che volevi un messaggio se mi chiedi se sento una persona vicino a me che si chiama Davide per me è come dare un messaggio e ti ho risposto che messaggi non ne do ciao Carmen Alessandro dice grazie di cuore parla ai miei genitori spesso col pensiero ma parlagli anche a voce alta io ho l'abitudine e lo dico sempre questo perché è un è un gesto che aiuta hai capito aiuta a a tenerceli a tenerceli qua a fare a fare in modo che fare qualcosa con loro io al mattino bevo sempre il caffè con loro mi verso due tre tazzine poi pian piano le bevo io ma il gesto di di dire beh sono qua no facciamo una cosa insieme parlagli anche l'altra voce fai le cose con loro Rosalia dice quando torno a Bologna non lo so tesoro quando torno a Bologna sì Maria Rosa mi parlano con la loro voce si sentono i toni di voce diversi anche se non hanno corde vocali Beppe dice grazie Susi grazie a voi grazie a te Sonia dice il mio caro gatto Romeo deceduto l'abbiamo sentito salire nel letto e la coperta si è affossata nel punto in cui si israeli il marito scettico è rimasto impietrito e si è alzato di botte e ero felice sì sì lo fanno Sonia assolutamente spostano anche gli oggetti spostano le lenzuola fanno vedere la sagoma sul letto certo Elena dice anche il mio gattino Bunno che è andato nell'oltre novembre mi manca tanto può sentirmi se gli parlo e può venirmi a trovare assolutamente sì Elena assolutamente sì grazie a te Rita grazie a te Alessia Rita dice un grandissimo saluto a tutti i nostri amici amatissime quattro zampe io li saluto sempre io ne ho tanti di là purtroppo ma sono contenta lo stesso perché comunque se ne sono andati vicino a me con tanto amore senza sofferenza perciò sto male io però alla fine loro hanno qualcuno che li scalda nel momento in cui se ne vanno in rivalsa contro tutte le persone che gli fanno del male Nadia dice puoi raccontarci come tu riesci a comunicare con le anime come tutto iniziato grazie adesso certo te lo racconto io da sempre li ho sentiti io ho perso il papà che aveva un anno e mezzo e io sono cresciuta con lui ho sempre vissuto con lui per me il mondo anormale era questo non era l'altro ero molto più e sono molto più legata all'altro mondo che a questo ho imparato ad accettare questa vita terrena ma io non l'accettavo non era per me non mi sentivo a mio agio ero molto più felice comoda e collegata dall'altra parte io comunico in un modo molto normale non vado in trance riferisco quello che mi dicono loro usano la mia voce sono cambiata negli anni perché comunque prima li sentivo molto più lentamente adesso usano la mia voce per parlare e nel giro di 10-15 minuti dicono migliaia di cose in una forma molto veloce credo di sapere anche il perché succede questo perché io chiedo comunque sempre delle conferme nei miei confronti perché comunque vado sempre scusate mi tolgo la giacca perché ho caldo vado sempre comunque a chiedere delle conferme nei miei confronti perché io vado a dare un messaggio delle persone che soffrono di conseguenza con più prove do con più è meglio no? a volte le prove arrivano proprio in questo modo di parlare che è talmente veloce che io non avrei modo di pensare anche se non ricordo assolutamente nulla del messaggio e poi i messaggi che danno adesso in questo modo vanno molto avanti nel tempo ed è molto bello perché tante cose non vengono capite immediatamente ma poi nel tempo come delle date come dei nomi come dei piccoli particolari nel tempo vengono scoperti perciò tu ti dici c'è c'era perché mi ha detto tutto questo e tutto questo sta accadendo anche se non ci parleranno del futuro non ci diranno come dobbiamo decidere della nostra vita le scelte che dobbiamo fare ma ci danno tantissime indicazioni questo è il mio modo di comunicare con loro Laura dice da quando è mancata mia mamma ormai 12 anni vedo spessissimo unco dei cuori sono convinta che sia il suo modo per dimostrarmi che è vicina può essere così assolutamente sì assolutamente sì gentile Anna Maria dice qualche settimana dopo la morte di mio papà sentivo la sera la sua mano sul mio viso può succedere assolutamente sì anche questo fanno tantissime cose per farsi sentire sono materiali ragazzi sono l'anima è molto forte ha un'energia talmente forte che può fare qualsiasi cosa muovono gli oggetti ci indicano la strada anche se a volte non ce ne accorgiamo se noi ascoltiamo il nostro istinto quello che chiamiamo istinto sono loro c'è quella vocina che è molto sottile che a volte ci arriva diretta nell'anima invece che arrivarci prima all'udito alla mente e ci aiuta a prendere la strada giusta quando c'è qualcosa che ci succede o che dobbiamo fare che non va per il verso giusto di cui siamo impediti a poter fare una cosa non facciamola ascoltiamo il nostro istinto perché c'è qualcuno che ci fa cambiare strada che ci aiuta perché può farlo non possono farlo sempre con tutto perché non possono cambiare il nostro destino però se noi ad un punto ci dobbiamo arrivare a volte ci arriviamo con fatica prendendo delle strade diverse loro ci aiutano a prendere quel sentiero quella scorciatoia perché tutto possa essere meno faticoso la mia gatta è ancora per caso e lo saluto e si stuscia ancora alle caviglie benissimo lo so che fanno così grazie a te Elena Mine dice gli parlo spesso quando sono sola lì stesso mi intira la Maria certo che sì dice Beppe Alessandro dice ho perso per favore puoi spiegare come dall'altra parte è un ambiente diverso dal nostro riusciremo ad orientarci ma assolutamente sì Alessandro noi ritorniamo a casa è la nostra casa io non ti so dire esattamente come io ci sono stata allora a volte ho visto questa luce infinita senza nulla intorno con queste anime che sono meravigliose speciali a volte ho visto dei prati a volte ho visto degli alberi io non ti so dire cosa c'è esattamente ti posso assicurare che c'è un amore e una pace infinita è la sensazione che ti avvolge che ti senti libero io le volte che sono andata e che sono tornata mi sono sentita un'altra proprio poteva cadermi addosso anche un albero che non avrei sentito niente non so se sono riuscita a spiegarmi Enza dice confermo arriva tutto Enza si Enza viene spesso a fare contatti da me lo sa lo sa perfettamente Angela dice che tipo di messaggio danno se non possono dirgli il futuro beh insomma il messaggio di là si fa per amore si fa per riconoscerli si fa per avere qualcosa i tipi di messaggi a una mia amica hanno detto hanno anticipato sua nipote che doveva nascere addirittura gli hanno dato il nome questo può essere una cosa futura ma perché era in programma senza dire che nasceva la bambina gli hanno dato dei particolari che poi lei ha capito hanno parlato di nostri rose di nostri rose di un colore che poi era il nome della bimba cioè non ti diranno mai chiaro il futuro non lo possono fare il contatto non si fa per sapere il futuro il contatto si fa per avere un collegamento con loro perché ci aiuta tantissimo per qualcuno che perdiamo che torna a casa e che ci manca tanto è importante sapere che ci sono che ci diano una prova una certezza o una sensazione che loro esistono Bruna dice mio figlio è morto sul colpo in un incidente stradale morire di morte violenta che effettua sullo spirito assolutamente come gli altri Bruna non c'è nessuna differenza assolutamente non c'è nessuna differenza sono tutti uguali anche i suicidi i ragazzi suicidati sono comunque anime pure quando arrivano dall'altra parte Elena dice il film lo solar può essere veritiero allora Elena mi hanno già fatto questa domanda e ho sempre risposto secondo me no però sai io non mi metto a confronto con delle persone che hanno studiato così io riferisco sempre perché quello che ho visto io fin da bambina per me no io non ho mai visto quello che sì l'ho visto il film lo solar però secondo me non è quello che ho visto io io non non condivido questa cosa poi non mi permetto di dire no non è vero per me non lo è assolutamente Luciana dice come fai ad andare oltre e puoi tornare esiste no Luciana non esiste una tecnica mi ha sempre portato mio padre io ho avuto la fortuna che mio padre mi portava di là con lui ma senza morire cioè era probabilmente un distacco dell'anima in quel momento non te lo so spiegare Paola dice il film lo solar è tratto da una storia vera guarda Paola io te l'ho detto prima non mi permetto di dire che è una persona che ha studiato che non mi permetto di dire che ha sbagliato cioè per me non è così quello che ho visto io non è assolutamente questo poi sai ognuno se ne sentono tante di queste cose perciò sapere la verità la sapremo quando saremo dall'altra parte loro mi hanno detto che è assurdo che la sofferenza che c'è sulla terra venga comunque riprovata dall'altra parte non avrebbe senso questa vita Marilena dice mio papà è nell'oltre da poco qualche notte fa ho sentito un abbraccio che mi ha svegliato ho chiuso gli occhi e l'ho sentito di nuovo certo sicuramente è stato lui Marilena assolutamente sì Susanna dice Susi sei splendida dai un grande aiuto alle persone che vengono da te che è un grande grazie Anna grazie Teresa dice mia madre è trapassata il 12 marzo sento in casa sua il suo profumo sarà suggestione no Teresa si fanno sentire moltissimo con i loro profumi sai è un modo di di farci sentire proprio si fanno sentire molto con i profumi con le carezze con i rumori con l'energia elettrica lucid scusatemi lucid televisioni ho bevuto mi è andato di traverso felice felice dice sono d'accordo Susi Monia dice cara Susi mio figlio è trapassato per un infarto una signora mi ha detto che la sua anima girava nel buio questa cosa mi ha distrutta il dubbio mi è rimasto dentro vorrei sapere se questa cosa può essere vera non posso sopportare l'idea che non sia nella luce guarda Monia io questa signora non la conosco ma gli dico proprio gli do un consiglio di lasciare delle stronzate perché non è assolutamente vero cioè cosa c'entra con un infarto a parte che l'infarto è una morte dolce perché è un attimo e non c'è sofferenza non se ne accorgono neanche perciò già da lì parti già con un ragionamento se questa signora dovrebbe anche ragionare un attimo e poi non è assolutamente vero i nostri ragazzi che sono dall'altra parte i nostri genitori chi va dall'altra parte non ha sofferenza assolutamente non ha punizione su questo insisterò sempre per tutta la vita perché so per certo che è così Camilla dice con i cuori e le farfalle si si fanno sentire anche con le farfalle Laura dice mio marito è venuto a mancare il due siamo soli io e il nostro piccolino di 21 mesi mi dispiace Laura tesoro ma non siete soli tuo marito via comunque vicino fai caso ai segnali che ti può mandare e soprattutto al tuo bambino perché il bambino così piccolo sente e vede perciò fai caso agli atteggiamenti di tuo figlio perché sicuramente ti indicherà dove è il suo papà Beppe dice mio padre sin da subito mi ha dato prova che esiste l'aldilà che sta bene da quel giorno cerco di portare la Elisabetta dice Susi quindi arrivano tutti subito nella luce si incontrano tutti sì perché a me è capitato anche di vedere le persone che se ne andavano in quel momento di assistere a queste cose e di vederli subito nella luce e poi una cosa straordinaria secondo me che mi fa anche molto ridere anche se il funerale non fa mai ridere quando facciamo i funerali per loro è una festa ci sono tantissime anime e fanno festa fanno gli scherzi ridono anche chi il defunto che è nella bara e viene accolto da tutti perciò c'è una grande festa io i funerali non vado mai perché rido in continuazione ma non perché non me ne frega niente di chi se n'è andato semplicemente perché fanno ridere sono continuamente in festa li accolgono è come se fosse un matrimonio e vanno subito di là nella luce subito non ci sono intermedi per quello che ho visto io per quello che io penso un minimo poca esperienza non dico tanta però ho 60 anni quest'anno perciò penso di averne viste parecchie che da quando sono piccola perciò a me non è mai apparso niente di quello che dicono alcune persone dirò sempre quello che vedo e poi un'altra cosa che io credo in quello che vedo perciò quello che dico è perché l'ho visto non perché io ho sempre chiesto la verità non mi è mai piaciuto raccontare delle balle soprattutto su questo argomento perché vai a lavorare lavorare intendo nell'anima non nel senso di lavoro con delle persone che soffrono non bisogna prendere in giro le persone che soffrono bisogna essere più sinceri possibili e dire quello che si vede quello che si sa non per il successo non per dire io vedo io sento io sono no le persone che fanno quello che faccio io sono sempre sotto terra con l'autostima e l'umiltà perché è una cosa che ti mette sempre in dubbio hai sempre qualcosa da dimostrare da te stessa non agli altri perciò non esiste il successo esiste il sacrificio esiste il dolore esiste la sofferenza di vedere qualcuno che soffre davanti a te cioè esiste l'emozione che senti questo tu vivi le emozioni degli altri questo è quello che avviene in quello che faccio io è vero io sono fortunata lo dico sempre e ringrazio ma è stato un percorso durissimo è stato un percorso durissimo non è facile e mi sono resa conto negli anni che ho questo percorso anche con gli animali perché io ho preso sempre dei gatti ammalati sempre i gatti che non volevano gli altri perciò accompagno li accompagno sempre perciò il dolore è il mio perché poi quando se ne vanno è normale che ci stia male soffro al momento poi dopo mi passa perché mi danno una pace una serenità interiore che non è sicuramente la mia perché sono una persona molto sensibile io amo tantissimo gli animali e mi è successo anche nel mio lavoro io ho fatto per anni l'assistente ho fatto l'os ho lavorato anche negli hospice vedevo gente che se ne andava tutti i giorni e mi sono resa conto che proprio mi hanno abituato a questo accompagnare a staccarmi anche un attimo dal dolore Paola dice io ho tanti chiarimenti dovuti leggendo il libro due mani due ali fantastico bene Laura dice mi manca il mio cuore non so non mi ricordo più cosa ho letto prima grazie a te Laura Beppe dice dicevo mio padre mi ha dato sin da subito conferma che esiste la lirà quel giorno cerca di portare speranza che soffre per un lutto che la vita continua è bravissimo Beppe buonasera Alessandra salvo ho perso molto nella mia vita sento sempre presenze che mi accarezzano la sensazione è che mi proteggono Patrizia dice così Nadia dice non resta nessuno sulla terra in che senso di loro no l'anima vive dall'altra parte ritorna a casa poi vivono sulla terra vivono insieme a noi sono due mondi paralleli sono due mondi molto vicini Alessandra dice i funerali vedono anche noi tristi e loro sono allegri certo perché non sentono la nostra sofferenza perché di là non si sente sofferenza non è che ci prendono in giro perché mi ha scritto la frase come se ci prendessero in giro assolutamente no ci stanno vicini per portare la loro allegria per loro è una festa la morte non è un distacco è una continuazione in un modo anche molto più vivo molto più bello molto più reale perciò è per questo che sono allegri perché vengono a raccogliere chi se ne è andato e fanno questa festa per portarlo dall'altra parte ci sono tantissime anime mi è capitato con il papà di una mia amica c'era la chiesa piena di queste anime e sentivi le voci molto più forti di come le senti normalmente si sentivano proprio io mi sentivo chiamare ho dovuto uscire dalla chiesa perché ridevo e mi continuavano a tirare chiamare e sono andata fuori non ho assistito alla messa non è semplice quello che fai Susi ringrazio il mondo spirituale per averti scelto come messaggera d'amore e speranza dice Beppe grazie ciao Anna Maria ciao more ciao Clara dice sono sei mesi senza la mia cagnolina spugna piango tutti i giorni guarda Clara è normale piangere sai perché si piange per i nostri però cerca di sentirla verrà che ti dà un po' di sollievo hai caso a qualcosa che senti in casa la sua presenza se dormiva con te il posto dove dormiva se ha qualche segnale anche i nostri amati animali li troveremo lassù assolutamente sì allora ragazzi sono le 10.35 buonasera buonasera Susanna leggo le ultime domande poi vi lascio perché sono stanca devo andare un po' a letto perché domani è una giornata piena di appuntamenti con tantissime persone Elisabetta dice Susi le anime antiche quali sono? le anime le persone disabili mentali sono anime antiche mio fratello un po' di giorni che non c'è più era disabile mentale non mi capacito subito io non so cosa sono cosa sono le anime antiche Elisabetta non te lo so dire le persone disabili mentali sono anime antiche io so che i disabili sono degli angeli terreni a me l'hanno spiegata in questo modo poi non so dirti cosa sono le anime antiche il mio il mio collegamento con l'altro mondo è molto semplice io quando sento tutti questi paroloni tutte queste cose molto difficili non le capisco neanche vi dico la verità per me è talmente semplice il collegamento con l'altro mondo è talmente semplice quello che fanno quello che dicono che non c'è bisogno di complicare le cose è facile sono due mondi talmente vicini e talmente collegati che non c'è bisogno di renderli più difficili è la semplicità pura è amore puro allora aspettate un attimo che vado avanti e dai e adesso cominciano con gli scherzetti girano questo qui non sono stata io sono loro questi sono gli scherzetti che fanno loro Ferra dice grazie mille se mi apprezzo molto il tuo modo di essere da profonda considerazione che anche le persone che sono nella sofferenza è il mio dovere Raffaella ti ringrazio comunque Eliana dice scusi mi sono arrabbiata come una persona da poco è andata oltre ma poi mi sono pentita di averlo fatto pensi di aver fatto male no no Eliana perché noi non non guidiamo l'anima degli altri l'anima che va dall'altra parte ha già il suo percorso di vita perciò ha già il resoconto del suo percorso di vita noi siamo semplicemente quando siamo qua esseri umani non facciamo cose straordinarie non li possiamo trattenere non li possiamo guidare da un'altra parte siamo semplicemente esseri umani Laura dice cosa devo chiedere al mio piccolo no non gli devi chiedere niente lo devi osservare osservare per vedere cosa con chi parla cosa guarda e vedrai che ti renderai conto che parlerà col papà che il papà gli sarà comunque vicino grazie a voi Beppe Maria dice perché nascono tanti animali malati anche loro hanno un karma guarda io Maria di karma non so proprio niente ti posso solo dire che gli animali sono delle anime evolutissime la malattia degli animali è creata dall'uomo perché siamo noi che facciamo ammalare tutti questi animali non nascono così malati siamo noi senza sterilizzarli buttandoli in strada buttando le mamme abbandonate perciò siamo noi che creiamo la malattia degli animali gli animali non sono malati Patrizia dice come possiamo prendere appuntamento con te dove ricevi grazie io ricevo a casa in provincia di Piacenza poi viaggio molto per tutta l'Italia se mi contatti in privato ci possiamo mettere d'accordo Francesco dice Susi grazie il piacere Simona di averti conosciuta grazie per la tua testimonianza grazie a te Simona grazie a te grazie a tutti voi grazie felice buonanotte a tutti ciao cara Susi è un piacere ascoltarti a mia Adele noi ci vediamo venerdì tesoro ci vediamo un bel caffè buonanotte buonanotte a tutti vi ringrazio ringrazio Anna ringrazio Enrico mi fa sempre piacere stare con voi mi piace parlare di queste cose ti abbraccio Beppe Mara dice mio marito è mancato da 26 giorni vorrei sapere se vicino a me è mio figlio ma certo Mara sarà sempre vicino a voi ma non solo lui ce ne saranno anche tanti altri ciao Rachele grazie Roberta grazie mille vi ringrazio tutti vi abbraccio come sempre grazie Gina grazie ci vediamo a Brindisi ci beviamo un bel aperitivo noi quando ci vediamo noi ridiamo sempre quando ci vediamo grazie Angela a te grazie a tutti voi grazie per avermi ascoltato ringrazio ancora Anna Enrico è sempre un piacere stare con voi ci vediamo il mese prossimo vi abbraccio buonanotte ciao scusate per tutte le cose il telefono che cade che si gira Sonia dice buonanotte se desidero un cagnolino qualcuno li vuole una cara amica ne ha dieci nati il 2 aprile che regalerà persone con cuore benissimo buonanotte Sonia grazie buonanotte Nada ciao Sara buonanotte a tutti vi abbraccio grazie di cuore a voi grazie 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 è sempre un piacere e poi ripeto mi piace tanto parlare di queste cose lo faccio senza presunzione quello che ho imparato quello che so cerco di di darlo a tutti come ha fatto bene a me spero che faccia bene anche a voi vi abbraccio vi do un bacio grande ciao buonanotte